Nasce a Pescara la figura della badante di condominio, un'iniziativa anche originale che nasce da una necessità importante? Questo progetto ci è stato presentato da una cooperativa e noi lo stiamo condividendo con la NACI, che è l'associazione degli amministratori di condominio, per cui verranno individuati dei condomini nella città di Pescara dove inizialmente verrà messa una badante in maniera gratuita, in prova per una quindicina di giorni che dovrebbe cercare di essere di ausilio e di supporto a tutte le persone presenti all'interno del condominio. Sono pochi i nuclei familiari in grado di poter avere una badante fissa, per cui in questa maniera qui si cerca di fare in modo di mettere all'interno del condominio una persona che si occupa dei bisogni di tutte le persone presenti all'interno del condominio, quindi necessità di andare a fare la spesa, di essere accompagnato dal medico, di avere un'assistenza in casa, anche notturna, cercando di ridurre i costi per gli utenti e facendo in modo che si creino le possibilità di nuovi posti di lavoro. Questa cooperativa con la quale noi ci stiamo rapportando sarà molto attenta nel selezionare queste persone, per cui voglio dire io credo che sia un passo di grande civiltà per aiutare persone che vivono situazioni di disagio. A Pescara i numeri dicono che la popolazione è over 65 e in continuo aumento. Considerando le situazioni in generale di grande difficoltà che vivono le amministrazioni, noi per quanto ci riguarda stiamo cercando di trovare strumenti anche alternativi ai soliti strumenti per cercare di venire incontro a questa popolazione che cresce e voglio dire legata al fatto che naturalmente l'età media si allunga e quindi cresce questo tipo di popolazione. Grazie.